Per quanto riguarda la situazione epidemiologica, come ben sapete, siamo di fronte a questa riemergenza epidemica che era del resto attesa dopo la relativa pausa estiva e dopo gli effetti del lockdown, che sono stati degli effetti che hanno determinato una diminuzione della circolazione virale durante il periodo estivo. Il periodo estivo, dopo che in genere è caratterizzato da una diminuzione della circolazione virale per quanto riguarda le malattie respiratorie, ma questa, come sapete, è un'infezione dovuta a un virus nuovo, quindi non prende molte pause neanche d'estate. I fattori della riemergenza non sono tutti noti e sviscerati. Come sapete, questo qua non è solo una situazione italiana, ma è stata preceduta, anzi, in Italia da altri paesi europei circostanti che hanno avuto questa riemergenza, diciamo, con un paio di settimane, due o tre settimane d'anticipo rispetto a noi. Quindi è un problema, diciamo, europeo in questo momento. Le caratteristiche, dal punto di vista epidemiologico, sono relativamente diverse. Si facevano 20-30 mila tamponi al giorno a marzo, aprile. Se ne fanno fra i 100 e i 200 mila oggi, con una variabilità giornaliera. Oggi, per esempio, sono stati eseguiti nel nostro paese circa 211.831, quindi è una capacità. Scusate, quando io parlo di tamponi, il tampone è il prelievo, tanto per essere... Tante volte c'è i tamponi, dopo ci sono i tamponi di test antigenici. No, sono tutti i tamponi. Il tampone è la modalità di prelievo tramite i tamponi, dopo di che si fa il test, che può essere un molecolare, un antigenico, dipende. Però la capacità è molto aumentata, quindi quando c'è chi dice ah, non si fanno abbastanza... se ne fanno molti, adesso se ne fanno davvero tanti, perché andare oltre i 200 mila al giorno, diciamo, è un numero importante. Che dopo, in alcune aree del paese, possano esserci purtroppo delle file, oppure magari delle attese, questo è possibile, ma la capacità è davvero molto aumentata. Non mancano i reagenti, insomma, mi sembra che da questo punto di vista le cose vadano molto meglio.